Buonasera, buonasera a tutti, a tutti i nostri follower da parte di DadBaseItalia. Abbiamo l'onore e il piacere di ospitare in questa nostra diretta la dottoressa Antonietta Gatti, nota ricercatrice, anche fisico e bioingegnere, dottor Fabio Franchi, noto infettivologo, Stefano Oscoglio, ricercatore scientifico e tanto tanto altro. Ben trovati, un saluto da parte di DadBase, anche del nostro editore Davide Donateo che ci teneva molto veramente a fare i suoi complimenti per il lavoro che state svolgendo perché credo che siete un pochino a un faro oggi in Italia che dipana tutte le ombre di chi non vuole vedere in questa situazione così complessa e complicata. Stavamo facendo due chiacchiere prima di andare in diretta, il primo argomento che è venuto fuori penso che sia importante partire da lì, il discorso del tampone. Stavamo parlando non solo dell'inattendibilità del test con l'amico Stefano perché poi con Stefano molti non lo sanno ma siamo anche coautori del libro Operazione Corona Colpo di Stato Globale, insomma siamo 6, 7, 8 autori con Nicola Bizzi, Matteo Martini, è stato diciamo uno sforzo letterario congiunto già l'altro anno in cui diciamo molte cose sono state dette voi dal punto di vista medico scientifico io più dal punto di vista di politica e di economia. Però ecco tornando al discorso del tampone volevo chiederti Stefano questo fatto dell'inattendibilità di questo test. Sì diciamo i motivi sono tanti, il primo di tutti è chiaramente che non essendo il virus mai stato isolato e questo ormai è confermato da tantissime documenti anche ufficiali a parte del CDC, da parte della comunità europea, c'è quest'ultimo caso di questi ricercatori americani che hanno testato 1500 tamponi positivi al Covid e sono andati a vedere e non ci hanno trovato nessun SARS-CoV-2, poi hanno chiesto al CDC ma ci mandate il marker del virus isolato per, e questi li hanno detto che non ce l'abbiamo, quindi sicuramente quella è la prima cosa, se manca diciamo il marker di riferimento cosa vai a cercare. Poi c'è un altro problema fondamentale che siamo ormai a 750 mila diciamo sequenze geniche perché il vero problema è che il virus non è stato isolato mai fisiochimicamente, è stato solo sequenziato e sequenziato siccome è una cosa creativa al computer, ne puoi fare quante sia, infatti ne hanno fatte 750 mila, io dico sono circa, adesso anche il doppio, sono aumentati, ero fermo a 750 mila, parliamo di 2-3 mila variazioni. Un milione e 200 mila pochi giorni fa. Ecco un milione e 100 mila, parliamo di 2-3 mila variazioni al giorno, capito? Quindi sto virus è una roba proprio divina, io ho già detto anche cosa interessante, questo è veramente un essere divino perché oltretutto è nato un letrino, i cinesi quando l'hanno presuntivamente isolato hanno detto, e non si vergognavano manco di averlo scritto, hanno detto sì abbiamo preso tre pazienti, abbiamo preso il liquido bronco alberale di tre pazienti, abbiamo trovato tre virus, però sono tre ma in realtà sono uno solo, sono diversi, ma uno solo lo chiamano, lo chiamiamo Encov-2, quello che poi è diventato Sars-Cov-2, quindi è nato già un letrino. Poi dopo c'è il grande problema, il grande problema, diciamo noi, lo so questo anch'io anche con Fabio siamo d'accordo, diciamo che appunto la realtà è che i tamponi sono fallaci al 100% per il semplice fatto che non c'è il marker, non c'è il virus, quindi cosa vai a cercare, è tutto casuale, però anche da dentro chi accetta l'idea che c'è il virus, che c'è il contagio del Covid eccetera, anche questi stessi ricercatori, ormai questo dal maggio-giugno scorso, hanno detto chiaramente che comunque se tu fai troppi cicli di PCR, la PCR è questa metodologia, Polymerase Chain Reaction che praticamente consente di moltiplicare piccole quantità di DNA in quantità più grandi e hanno detto, hanno fatto dei test dove praticamente avrebbero messo in coltura diciamo il liquido dei tamponi positivi e hanno visto, e questi sono almeno 3-4 studi pubblicati mai smentiti, che fino a 17 cicli c'è ancora una corrispondenza tra tampone e diciamo effettivamente carica virale. Da 17 cicli in poi comincia ad andare giù, a 25 sei già al 30% di falsi positivi, a 30 sei all'80% di falsi positivi, 34-35 100% di falsi positivi. In Italia raramente sono fatti 35 cicli, perché mediamente sono sempre fatti 40-45, anche 50 cicli, questo vuol dire che tutti i 100% dei casi di Covid del 2020 sono tutti falsi positivi, quindi solo questo di per sé renderebbe tutta la cosa chiaramente una totale invenzione. Questa metodologia quindi rende inattendibile la verifica della positività almeno, ma quello che ci chiediamo, e volevo chiedere a dottoressa Gatti, anche la pericolosità di questi test, questa introduzione veramente, una schedatura genica che ben viene fatta. Voi so che state lavorando molto in questo senso, che cosa ha scoperto ultimamente? Allora, siamo andati a vedere questi famosi tamponi. Io pensavo che fossero dei tamponi come cotton fiocca, cosa che ho ancora nel mio laboratorio per fare appunto dei prelievi, invece quelli nuovi sono molto diversi, sono come quelli tipo cotton fiocca fatti appunto con una specie di filo arrotolato su uno stemma, diciamo, un manico, e invece no, sono fatti come degli scovolini, nel senso che sono molto piccoli, però hanno appunto lo stelo centrale e poi attorno a 90 gradi delle fibre. Ora queste fibre, diciamo l'anima dovrebbe essere di nylon, però hanno pensato bene di indurirle molto per screziare molto bene l'interno della mucosa, per cui hanno fatto dei rivestimenti di queste fibre, diciamo del vetro, il segnale mi dà la presenza di silicio e di alluminio di qualche altro elemento. Quindi sono fibre vetrose che ovviamente quando vengono a contatto con la mucosa la lesionano anche, tanto è vero che alcuni mi dicono guardate che mi è sanguinato il naso e alcuni mi dicono guarda che mi continua a sanguinare il naso, altri invece sono ancora più belline perché sono di silicio zirconio. Ora questa è una metodica di un certo livello, anche perché ci sono anche delle nanoparticelle e addirittura in alcune ci sono delle nanoparticelle specialmente nella base di argento nanodimensionale, che sappiamo che è un battericida. Allora uno dice scusa perché metti un battericida dentro a questo sistema, a questo medical device? La cosa è ignota, però uno si chiede come mai tanta tecnologia viene impiegata su questi tamponi. Non di meno ci sono da fare delle piccole osservazioni, alcuni sono sporchi. Cosa significa? Cioè sono sterili, devono essere sterili e di solito vengono sterilizzati in ossio di etilene, tutti i medical device di plastica vengono sterilizzati in ossio di etilene che è canceroso, su questo siamo perfettamente d'accordo. Quindi tutti questi presidi vengono messi in scatoloni, vengono inviati in certe camere in cui c'è la presenza di questo ossio di etilene, poi vengono tirati fuori, devono stare 48 ore fuori all'aria con magari aria pressurizzata perché l'ossio di etilene deve andare via. Questo è una pratica normale per tutti i medical device, quindi mascherine, materiale per intubazione, cateteri, tutto quello che viene dato all'ospedale di plastica di solito viene trattato in questa maniera. Questo non significa però che sia, cioè è sterile ma non è detto che sia pulito. Questo è il punto fondamentale. Se io lavoro in maniera sporca, non in camere bianche, è chiaro che posso aggiungere della polvere qualche altra cosa a questo medical device, per cui non ci sono magari dei batteri, però c'è dello sporco e lo sporco messo in certe parti può dare fastidio. Non solo, ma queste fibre così rese dure ma sono fragili, queste possono rompersi una volta che sono nel naso e quindi possono lasciare dei detriti vetrosi all'interno e la biocompatibilità di queste fibre, io non l'ho vista in giro, cioè testi che mi dicano se questa fibra di silicio zirconio è biocompatibile, io non l'ho vista, quindi possono dare delle infiammazioni, possono dare delle granomatosi, delle fibrosi col tempo, non lo sappiamo anche perché è venuta la moda di andare in profondità nella cavità nasale, tanto che qualche operatore non espertissimo si è sbagliato e ha lesionato la membrana che divide la parte interna del naso dal cervello, per cui a Sant'Antonio in Texano un mese e mezzo fa una signora che ha fatto il tappone è finita in sala operatoria per appunto suturare questa lesione che si era fatta. Però queste aghi, chiamasi aghi da casa mia, che lesionano la mucosa possono ovviamente anche appunto rompere dei vasi e ce lo siamo già detto, ma possono anche stimolare delle innervazioni, per cui alcune persone mi hanno detto ma io di notte dopo che ha fatto il tampone ho delle puntate pressorie molto elevate che poi a un certo punto passano, però ogni volta che lo rifaccio mi ritornano, quindi c'è una invasività che poi può stimolare i nervi vaghi. Tutte queste considerazioni devono aggiungersi al fatto che in molti tamponi, io l'ho visto in uno, poi ho continuato ad avere altri tamponi e a un certo punto li sto trovando in tutti, c'è sempre qualche filamento nero. Allora qui i copiottisti si sono agitati, oddio che cos'è, io li ho guardati, a me sembra sporco, ho detto fra di noi, volgarmente, che non fa bene neanche quello, ecco quindi è ovvio che se ci sono altre nanotecnologie sopra questi tamponi, delle volte si fa fatica a vedere se non sai neanche cosa devi cercare. Sicuramente, sicuramente questi tamponi sono imbevuti in qualche cosa, ecco questo lo possiamo dire perché li abbiamo poi immersi in acqua bidistillata, abbiamo misurato il pH dell'acqua e abbiamo misurato il pH dopo 24 ore di quello che aveva rilassiato, il pH è sceso a 5,5, a 6, quindi c'è sicuramente qualche cosa che li permea. Che cosa non sappiamo? Sappiamo che dentro alla confessione ci sono delle provette con del liquido, non c'è scritto che cos'è e questo secondo me per la legge italiana non va bene, assolutamente, in cui vengono immersi forse un fissante, un fissativo, non sappiamo. Comunque tutte queste manovre sono un po' sospette, non se ne capisce la ragione. Nei foglietti illustrativi di come si fa il tampone, quelli norvegesi bisogna entrare solamente nella prima parte del naso, cosa che secondo me è più che lecita perché se il virus c'è deve passare dalle vie aeree, quindi lì c'è sicuramente, invece in altri bisogna entrare nella parte più interna. Sicuramente questi scovolini tirano via un sacco di materiali, su questo non si discute e possono creare delle lesioni che non è detto che guariscano o meglio. Siccome c'è gente che fa il tampone una volta ogni 5, ogni 7 giorni, la lesione creata non guarisce in 7 giorni, assolutamente, quindi si possono cronicizzare delle lesioni, quindi il mio consiglio è di andare da un otorino che sappia veramente il suo mestiere e andare a verificare se è successo qualche cosa di cronico dentro il suo naso e nella sua gola. Al dottor Franchi, caro Fabio, ti volevo chiedere che idea ti sei fatto, perché da quello che ci dice la dottoressa, quasi quasi questo tampone sembrerebbe non solo un meccanismo per prelevare, ma anche per somministrare a questo punto, in modo invasivo e in modo anche pericoloso per la salute delle persone che magari sono costretti a farlo con una certa ciclicità. Che idea ti sei fatto? Dunque, ho ascoltato quello che ha detto la dottoressa Gatti, di cui ero già parzialmente a conoscenza, e quindi l'uso di questo tampone può comportare una pericolosità per il modo con cui viene prelevato il materiale, molto in profondità, e per il fatto che può rilasciare delle fibre, di cui molte sono comunque fibre strane, non biocompatibili da quello che ho capito. Ecco, questo è il rischio. Il rischio di lesione è il rischio che resti qualcuno dentro, soprattutto se l'operazione viene ripetuta. Ecco, ma l'idea che mi sono fatto è che loro hanno visto che più in profondità va il tampone, più si gira, perché fatti dicono di girare tante volte, più il materiale raccoglie e più facilmente il test diventa positivo. Ecco, infatti si è visto che nella stessa persona se viene fatto un prelievo rinofaringeo oppure un prelievo profondo da liquido brocalveolare, diciamo un aspirato brocalveolare, polmonare, allora c'è una differenza di positività, nel senso che è molto più facilmente positivo il prelievo profondo. Ecco, quindi questa secondo me è la ragione. Per un discorso che non è mai stato isolato, torniamo al discorso che stava facendo Stefano all'inizio. Sì, 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 sì. Tu poi Stefano... Sì, dimmi, dimmi. Ancora continuo io? Sì, sì. Ah, ecco. Sì, certo. Noi, il dottor Scoglio ed io sosteniamo da tanto tempo che il virus non è stato isolato. Ma a prescindere da questo, noi abbiamo ormai il riconoscimento da parte del professor Palù, che è il presidente dell'AIFA, che è il presidente della Società Europea di Virologia, che è docente e merito dell'Università di Padua. Abbiamo la sua missione il 23 dicembre scorso, che ricordo perché mi sono rimasto molto colpito, che durante la conferenza stampa di Zaglia è intervenuto a dire che il tampone, la PCR, che è il test di riferimento, non è mai stato validato. E questo già la dice lunga. Uno potrebbe anche chiudere il discorso qua. Come? Per una cosa così importante il test di riferimento non è neanche stato validato. ma è uno scherzo? Scherzano, fanno sul serio. Non solo, con il fatto che, quello che ha detto il dottor Scoglio, che qualcuno usa 20 cicli, altri 25, 30, 35, eccetera, a prescindere dal discorso su quali sono i cicli giusti, e dopo ne parleremo, questo dimostra che non è mai stato standardizzato. Validato significa che non si sa esattamente cosa significa. E standardizzato vuol dire che ogni test può dare un risultato diverso dagli altri, che non vanno d'accordo, spesse volte non vanno d'accordo. Questo è né standardizzato né validato. Ecco, con questi due test, noi abbiamo loro, diciamo, hanno imbastito tutta questa storia qua. Il che è molto preoccupante. Perché? Perché ci sono delle conseguenze. Aspettate un attimo. Prima delle conseguenze aggiungo questo. Il dottor Scoglio prima ha detto che dei test fatti con 20 cicli, poi venivano confermati l'80%, con 25 cicli di ripetizione, di moltiplicazione e venivano confermati molte di meno. Confermati come? Confermati come? Con la cultura. Cioè il test di riferimento viene riferito alla cultura, che è un altro test. Allora qual è il test di riferimento? La cultura o la PCR? Anche queste cose qua bisogna decidere prima. Quale di questi test è sconsiderato? Perché lo ha detto la stessa OMS, che il numero di cicli è eccessivo, infatti ha detto che viene amplificato il rumore di fondo. Il rumore di fondo vuol dire negativo, che viene amplificato. Quindi oltre a esserci il problema di tutti i test che hanno una specificità, una sensibilità, in questo caso qua, con questo test, cosa si fa? Si determina una specificità e una sensibilità in maniera scorretta, cioè in base alla approvazione per l'uso di emergenza. Quindi non è una vera sensibilità e specificità. Questo è importante, nei primi test veniva specificato, nelle prime istruzioni dei test, veniva specificato anche questo. Quindi è un problema di importazione molto grave. Perché? Perché sul test di riferimento non validato e non standardizzato si basano tutti gli altri test. Il test anticorpale, il test antigenico, i vaccini, eppure la terapia con anticorpi monoclonali. Anche gli anticorpi, se volete parliamo dopo degli anticorpi, ma insomma adesso non ha importanza. Volevo passare a lungo, però tutta l'impostazione è messa così. E poi la definizione, aggiungo ancora questo, la definizione parte col colpito sbagliato. Cioè per definizione la Covid malattia può essere, la diagnosi può essere effettuata, grazie a questa definizione, con qualsiasi patologia più test positivo. Ma non solo con qualsiasi patologia, anche con assenza di patologia. Cioè la Covid può essere definita, la Covid vuol dire malattia, no? Disease. Ecco. Può essere anche in presenza di salute e test positivo. E questi sono casi che si sono verificati. Allora, per la prima volta in medicina, la salute è definita malattia. Se il test è positivo. Ma il test è che ha tutti questi problemi. Ecco, questo è... è una cosa piccolissima. Cioè, in più c'è il fatto che questi scovolini, questi tamponi, hanno delle fibre dicevo di vetro che si possono rompere. Rimangono dentro al muco le cellule e possono essere degli interferenti nella PCA, tra l'altro. Qualcuno ci è mai andato a vedere cosa c'è veramente poi dentro? Quindi a mio avviso ci sono tante, diciamo, a parte le stranesse, tanti buchi neri che i scienziati non sono andati tutti a controllare. Quindi abbiamo fatto una lista della spesa, ma poi ce ne potrebbe essere ancora di più. Sì, ma ce ne sono tante. Tra l'altro io, ecco, volevo riprendere un attimo, se possibile, il discorso anche della componente normativo-legale di questa storia di tamponi, a cui accennava Franchi. Perché fondamentalmente non solo non è mai stato validato, non è manco mai stato veramente autorizzato. Nel senso che, come ho spiegato in un documento che ho pubblicato parecchi mesi fa, che cosa è successo? Riportato questo dalla Commissione europea, è successo che loro stessi hanno detto, allora c'erano aprile dell'anno scorso 78 tamponi diversi che circolavano e dicono loro non validati, non verificati, non autorizzati e tra l'altro nessuno di questi, quasi nessuno di questi riporta la sequenza genica di riferimento utilizzata. La cosa pazzesca è che tutto questo accade ed è potuto accadere grazie a un vuoto normativo. Esisteva la normativa del 2007 sui medical device, sui dispositivi medici, che però per questi test si riferiva solo ad alcuni test di virus già utilizzati in passato. Questo essendo un virus nuovo non è compreso fra quelli categorizzati nel 2007. Nel 2017 hanno cambiato la legge, quindi quella del 2007 non vale più, ne hanno installato una nuova, però hanno scritto che entrerà in vigore nel 2022. Quindi praticamente sono cinque anni di buco vuoto normativo, per cui questi tamponi li hanno potuti, ognuno li può mettere in commercio solo con la posizione del CE, che è un'auto a opposizione, lo fai da solo, e che vuol dire solo che non ti esplode nelle mani fondamentalmente. Quindi ci puoi mettere dentro quello che ti pare. Io ho detto, scusate, va bene che c'è questo vuoto normativo, ma i giudici, cioè stiamo mettendo le mani di intere nazioni sulla base di questo vuoto normativo, che consente dei tamponi assolutamente mai manco valutati o autorizzati o validati, e nessun giudice entra nel merito di questa cosa, perché è una roba veramente allucinante secondo me. Poi per quanto riguarda il discorso della cultura, di nuovo, io dico che anche questa, per quanto mi riguarda, non ha nessun valore, perché se tu non isoli il virus, cosa metti in cultura? Cosa ritrovi nella cultura? Trovi quelle sequenze geniche che ti sei inventato e che ognuno si inventa per conto di lui, perché c'è chi fa il gene ORF-N e il gene E, c'è chi fa il gene ORF-SN, c'è chi fa il gene E, cioè ognuno ognuno si fa la sua. Quindi, però, ho detto solo, comunque, anche da dentro la visione di chi crede che ci sia questo virus, che sia infettivo, eccetera, quando li metti in cultura viene fuori che a 30 cicli sei all'80% di falsi positivi, a 35 sei al 100%. Io ho riportato una tabella di questa organizzazione che si chiama FIND, che è la più importante organizzazione di valutazione degli strumenti diagnostici e già l'anno scorso aveva pubblicato una lista intera dei primi 30-40 tamponi PCR e tutti riportavano come media dei cicli utilizzati 36, 37, 38 come media, che vuol dire che in molti casi andavano sopra 40. E tutti sanno, questo lo sanno tutti, perché esistono delle linee guida, quelle del Miche, che sono state messe a punto dal professor Bustin, Stephen Bustin, che scrive chiaramente che oltre i 30 cicli, ed è già generoso, secondo me, ma oltre i 30 cicli non si può andare perché quello che viene fuori è completamente falsato, senza nessun tipo di fondamento. Concludo, riferendo a questa cosa che è importante dell'articolo di Corman Drosten, perché questo è veramente il non plus ultra. Questi a gennaio, cioè a febbraio, quando ancora l'epidemia, la pandemia non era manco partita, c'erano stati sei morti in Cina, quindi avevano già preparato tutto da prima, come c'è scritto nel libro di Speranza, che già lo sapevano dal dicembre 2019, che sarebbe stata la pandemia, quindi già loro lo sapevano, Corman e Drosten si fanno mandare una sequenza computerizzata dai cinesi e dicono beh il virus non ce l'abbiamo, però abbiamo questa sequenza, mettiamo a punto il primo tampone, talmente importante che è stato pubblicato praticamente senza nessuna review da parte di in un giorno, presentato un giorno, pubblicato il giorno dopo, assunto dall'OMS come quello di riferimento, è diventato uno dei più diffusi nel mondo e loro stessi dicono non l'abbiamo fatto senza avere il virus a disposizione, di cosa stiamo parlando? Cioè già solo quello, ecco io e Fabio facciamo parte di quel gruppo di 22 ricercatori scienziati che hanno fatto la richiesta di ritrattazione di questo articolo che oltre a questo ha altri 8, 9, 10 errori fondamentali, anche diciamo definiti da personaggi importanti che sono molto esperti anche come tecnici di PCR, ovviamente non abbiamo ottenuto niente nel senso che Eurosurveillance ha detto no no va tutto bene. Poi siete stati tra i primi in Italia a denunciare diciamo queste irregolarità, questa falsità ha nei risultati ma anche nella natura del test stesso quindi tu sai insomma poi anche tu Stefano scrivi su Database Italia quindi ti seguiamo e tutto quanto ma da questa pantomima purtroppo ci sono state delle derive a parte quelle sociali, a parte il discorso del lockdown, la violazione della Costituzione siamo arrivati a quasi l'imposizione mentale di un vaccino che non si può neanche chiamare vaccino ma un trattamento genico, un siero, non so la dottoressa chiederei a lei come poter chiamare questo trattamento diciamo Pfizer, AstraZeneca e quant'altro come come si potrebbe chiamare? Io direi che è un farmaco transgenico, questa può essere una definizione comunque non è un vaccino, almeno nella definizione classica di questo però è chiaro che ci sono delle persone importanti che l'hanno etichettato in una certa maniera così hanno una via veloce per avere le autorizzazioni per poterlo mettere in commercio qui si sono saltate delle fasi di sperimentazione e ci sono delle persone che stanno sviluppando delle patologie strane quando non sono morte che se ne stanno accorgendo che manca un peso di sperimentazione anche perché quando si fa la sperimentazione è vero si inizia dalle cellule si va a vedere quindi certi meccanismi io li capisco molto bene di certi meccanismi di azione di questo terapia che ci vogliono fare perché si parla di meccanismi nanotecnologici ecco queste parole non vi sono state dette non sono state dette però quando io prendo dei liposomi li riempio con dell'RNA e li do alla cellula questo è un meccanismo di nanomedicina che dovrebbe essere verificato per la nanotossicologia ora io avendo avuto anche un progetto di nanotossicologia io so benissimo che i sensori di membrana non non riconoscono gli liposomi quando qualcuno ci ha creato le nanoparticelle lipidiche sintetiche non c'erano e quindi i sensori non ce li abbiamo quindi quelli per fagocitosi entrano qui quando sono all'interno queste vescicole di grasso si dovrebbero rompere e rilasciare l'RNA che dovrebbe poi indurre a fare la proteina spike però è chiaro che quando sono lì dentro questi pesi di RNA poi fanno quel cavolo che pare a loro cioè se ci sono c'è un ambiente in cui ci sono degli altri virus ci sono delle altre cose si ricombinano come vogliono loro loro i pezzi di RNA non le litte farmaceutiche quindi tutti questi meccanismi sono stati studiati appunto sulle cellule ma quando si fa le iniezioni si fa nel braccio e nel braccio questo liquido deve andare in tutte le cellule e ci va attraverso il sangue quindi l'interazione di questi liposomi col sangue qualcuno l'ha studiata ci sono degli articoli scientifici che mi 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 dicono come si comporta a mio avviso lo stiamo vedendo in alcune persone che sviluppano trombosi morogie cerebrali e così via ecco stiamo vedendo questi meccanismi però prima di arrivare a quello si dovevano fare delle sperimentazioni di di altro tipo ora che anche la comunità europea abbia dato il via libera a questi diciamo salti questo ritorno molto strano ecco io sono stata in commissione europea e il rigore scientifico il rigore burocratico era la norma adesso pare che tutte queste 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 cose siano stati bypassati si sia si stiano si stiano facendo altre cose e questo è molto triste però quello che appunto dicevo mi mi fa specie è che certe parole che definiscono dei meccanismi come nano medicina nanotossicologia queste nessuno non vengono detto quindi è una guerra di parole a questo punto ad analizzarli come avete fatto in passato su molti vaccini di altro genere dei veri vaccini voi siete mai riusciti ad analizzare questo farmaco transgenico ripeto non è un vaccino quindi tutte le procedure che sono industriali che erano state attivate per fare i vaccini che vengono fatti per fare i vaccini qui non valgono più ok questo punto questo è veramente qualcosa di diverso quindi diciamo che sono trasparenti rispetto a quello che faccio io mentre sono invece molto attuali tutto il discorso dei tamponi finisco di dire che fino a 7 8 anni fa se tu mettevi in commercio qualcosa di sì sterile ma sporco non passava i nastri che ti venivano addosso ti bloccavano tutto adesso tutta questa anche queste semplici procedure senza andare a parlare di nano tecnologie via queste semplici procedure sembra che non siano più valide ecco questa è una cosa di cui mi meraviglio ancora oggi bene volevo chiedere a fabio è un si è parlato molto anche su alcune interviste di vostri colleghi oltreoceano sul fenomeno appunto a cui porterebbe questo trattamento genico ovvero il fenomeno dell'ade no l'antibody dependent enhancement cioè questo il sistema immunitario che potenzialmente impazzisce attacca se stesso può attaccare i globuli rossi e questo discorso della proteina spike e tutto quanto che idea ti sei fatto diciamo come reazioni avversa al di là delle trombosi più o meno immediate e fabio mi senti sì 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 ho sentito pensavo che non avevi finito la domanda no allora è la questione è piuttosto complessa e sono occupata in particolare dottor scoglio ecco sul fatto che questi questi cosiddetti vaccini che non sono vaccini penetrano nell'organismo e danno e danno intanto degli eccipienti che sono pericolosi e poi sono costituiti appunto da lipidi sintetici e contengono un rna sintetico ecco allora c'è il problema della penetrazione nella cellula ecco questo non è tanto certo infatti sicuramente il dottor scoglio dirà qualcosa con perché approfondito di più questo argomento io voglio solamente ricordare questo che la direttrice del dell'istituto di genetica dell'inserm di parigi di parigi certa alexandra professoressa alexandra e rio un code ha detto esplicitamente lei che proprio si occupa di rna è proprio il suo oggetto di studio che una terapia a sani con rna in questa messaggero in questa maniera qua e pura follia ecco questo ha detto ecco per quanto riguarda gli eventi avversi c'è da aprire tutto un discorso ecco sulla questione degli anticorpi anticorpi se gli anticorpi sono neutralizzanti non neutralizzanti però dato che la questione degli anticorpi non sta in piedi per conto suo ecco sarebbe un po da approfondire questo discorso comunque dicendolo così in maniera diretta gli anticorpi possono essere neutralizzanti se praticamente sono capaci di colpire il virus in una sua parte che ne impedisce la replicazione però ci sono anche degli altri anticorpi che non sono tanto specifici o comunque colpiscono il virus in una parte non tanto funzionale funzionale quindi danno luogo una relazione immunitaria con con degli anticorpi che quasi quasi aiutano la replicazione del virus perché portano nella cellula e la si può moltiplicare questa è la teoria che io metto in discussione però ecco dato che ognuno di queste di questi presupposti secondo me è sbagliato allora lo è anche questo io la guardo di queste varianti potrebbe esserci comunque una correlazione tra numeri di vaccinati tra virgolette e tutte queste varianti che stanno stanno scendo fuori dalla nigeriana inglese sudafricana brasiliana e via discorrendo ecco anche anche di questo si è occupato molto bene il dottor scoglio però il fenomeno e questo ed è un fenomeno molto grosso che cercano hanno cercato di interpretare in modo da poter salvare la teoria virale invece crolla crolla è definitivamente secondo me se uno volesse guardare dal punto di vista scientifico perché corre successo ci sono stati centi in in italia centinaia e centinaia di casi di focolai che si sono i focolai di quello che dicono loro contagi o di infezioni entro pochi giorni dalle vaccinazioni il caso tipico è di una rsa tutti negativi prima della vaccinazione dopo la vaccinazione dopo pochi giorni 80 per cento tra personale di assistenza e dei genti positivi com'è possibile spiegarlo con la teoria virale è molto difficile c'è impossibile perché se uno può pensare che ci sia una variante che sfuga allora una sintomatico che porta l'infezione allora cosa si può pensare che la sintomatico per ben che vada la trasmette altri uno due questi questi incubano la malattia e poi dopo cinque dieci giorni la possono trasmettere ad altri altri due tre quattro qui quindi focolai che si sviluppano in verticale pian piano nel giro di un mese mettiamo ma non in pochi giorni non è possibile che una sintomatico in una situazione in cui ci sono tutte quelle misure di precauzione mascherine visiere guanti camici eccetera che sia questo passaggio così diffuso è impossibile cioè che una sintomatico la passi a 50 persone non è pensabile una cosa del genere è una follia e qua secondo me crolla la teoria virale perché non è successo solo un caso in una RSA ripeto ce ne sono centinaia di casi ma anche in tutto il mondo si vedono le nazioni che applicano la vaccinazione dall'inizio della vaccinazione c'è una esplosione di cavi cioè la positivizzazione dei vaccinati quindi queste sono le varianti cioè le varianti sono in realtà non varianti del virus fantomatico ma sono gli eventi avversi della vaccinazione noi adesso non voglio coinvolgere dottor Scoglio ma penso sia d'accordo con me succede questo che le persone vengono vaccinate il vaccino crea una situazione di malessere generale di una reazione infiammatoria che facilita la positivizzazione del test ecco e questo è successo anche con le vaccinazioni anti influenzali anche qua a Trieste proprio qua a Trieste è successo che una casa è venuta sul giornale in una casa di riposo hanno vaccinato nel novembre scorso tutti quanti tutti quanti e tutti negativi tre quattro giorni dopo tutti positivi tranne uno quell'unico non aveva fatto l'anti influenzale nella casa di riposo sono andato io a informare la casa di riposo gemella nello stesso palazzo nessuno positivo nessuno aveva fatto la vaccinazione anti influenzale ma questo è un episodio ma ce ne sono stati tanti di questi allora su questo su questi episodio bisogna ragionare la teoria virale non lo può spiegare assolutamente tra l'altro questo mi ricorda un caso che avevo già visto nello stato di New York dove c'era un RSA che aveva un'ottantina novantina di pazienti anziani che in tutto il 2020 nessuno era stato male nessuno aveva avuto il covid il 20 dicembre il 20 dicembre vaccinano tutti nei dieci giorni successivi sono morti 20 degli 80 tutti per covid ovviamente capito in base a quello che diceva l'amico Fabio ecco io sul vaccino devo dire questo io mi sono letto un po' di letteratura su questi vaccini mRNA e devo dire che ci sono articoli del 2018 del di giugno 2019 che fanno un po' la revisione generale degli istituti sull'RNA su vaccini RNA che dicono e questi sono ovviamente favorevoli sono studiosi favorevoli a vaccini mRNA dicono vaccini mRNA sono una estrema una potenzialità una potenzialità estremamente positiva c'è solo un problema che ancora non abbiamo risolto il problema della delivery c'è il problema di far arrivare queste mRNA nella cellula dopodiché da giugno 2019 al giugno 2020 hanno trovato il modo sono usciti articoli che hanno rivelato come risolvere il problema no la letteratura si è fermata questi articoli che dice la delivery al momento attuale non è possibile poi spiegano anche perché come io ho riportato in alcune interviste uno c'è il problema delle ribonucleasi di questi enzimi che non sono solo endocellulari ma anche e extracellulari anzi anzi le extracellulari sono molto più numerosi delle endocellulari che attaccano subito questo materiale che viene iniettato ora loro per cercare di temperare l'attacco ci aggiungono alcune ammine no alcune proteine che dicono in quel caso magari assorbono l'attacco delle di queste di queste ribonucleasi il problema però che nessuno si pone ma una volta queste ribonucleasi hanno distrutto le ammine e la cosa entrasse anche nella cellula ci sono le ribonucleasi endocellulari che finiscono di fare il lavoro quindi comunque distruggerebbero ma c'è un altro problema fondamentale che è quello della cosiddetta endocitosi perché normalmente il meccanismo dovrebbe essere quello dell'endocitosi cioè la cellula fa questa specie di invaginazione del materiale e lo porta dentro ma dicono questi ricercatori il vero problema è che molto più spesso quello che accade è la esocitosi cioè avviene un'invaginazione che tiene il materiale in una vescicola esterna alla cellula quindi già queste due cose sono lo dicono loro è che questa è una cosa riportata in questi studi e poi c'è un terzo fattore fondamentale che secondo me fa in modo che questo materiale nelle cellule probabilmente difficilmente ci arrivi addirittura a fare queste sfide con le cellule perché dicono che fondamentalmente questo mRNA così come gli altri componenti che sono questi lipidi sintetici ma anche polisorbato 80 eccetera hanno un elevato tasso di immunogenicità cosa vuol dire che praticamente lavorano già come adiuvanti cosa sono gli adiuvanti la gente non sa bene cosa sono gli adiuvanti gli adiuvanti sono i veleni che vengono aggiunti perché altrimenti il sistema immunitario non reagisce perché uno si chiede mettono tonnellate di alluminio nel nel vaccino per i bambini perché se tu ai bambini gli dessi solo il presunto virus da solo probabilmente non succederebbe niente il sistema immunitario manco se ne accorge viene eliminato in maniera semplice beh insomma sì no quello sintetico sì scusate quello sintetico sì però diciamo generalmente la reazione è molto più blanda rispetto al fatto se invece ci metti associato all'alluminio per esempio ad altri adiuvanti che in qualche modo stimolano la reazione immunitaria allora una delle cose che dico rispetto a questi vaccini a mRNA dicono non c'è bisogno di aggiungere adiuvanti perché l'MRNA sintetico e questi altri materiali funzionano già come adiuvanti vuol dire che di per sé nel momento in cui tu inietti immediatamente parte la cascata di citochine la reazione infiammatoria la reazione immunitaria che tiene questa roba diciamo in qualche modo sotto scacco poi il vero problema qual è? che in alcuni casi il danno è rapido e immediato e c'hai appunto danni o morti nel giro di poco tempo in altri casi la lotta continua tra sistemi immunitari questo materiale che viene difficilmente eliminato e puoi avere anche queste problematiche di patologie che si sviluppano poi nel tempo anche questo si è detto per quanto riguarda l'ADE questa è una teoria mia io personalmente ho sempre pensato perché ho visto sono andata a leggermi anche gli studi i primi studi degli anni 50 per esempio quando sono morti bambini con i vaccini antinfluenzali con la sperimentazione dei vaccini antinfluenzali secondo me la questione dell'ADE è stata una scusa per coprire il danno da vaccino cioè come per esempio quando nel 2012 hanno fatto lo studio hanno fatto lo studio sui topi col SARS-CoV-1 col vaccino SARS-CoV-1 e hanno visto che questi topi morivano come hanno giustificato la cosa a parte che tutto lo studio è ridicolo perché praticamente hanno fatto hanno dato il vaccino al tempo a due gruppi il gruppo diciamo poi che è stato a cui è stato aggiunto il virus e invece il gruppo solo vaccinato senza il virus al tempo zero tempo ventotto poi al cinquantasesimo giorno il gruppo senza vaccino viene messo da parte e dal cinquantasesimo giorno uno dei gruppi viene vaccinato due giorni dopo vanno a vedere i danni devastanti che hanno fatto scusate il cinquantasesimo giorno viene aggiunto il virus per via intranasale due giorni dopo il cinquantatesimo giorno vedono questi danni devastanti nei topi però solo in quelli a cui è stato aggiunto il virus senza andare a fare il controllo con gli altri e dicono vedi questi danni devastanti sono dovuti al virus che abbiamo iniettato due giorni fa per naso ecco grazie all'ADE cioè al fatto del antibody dependent enhancement ma questo da sempre secondo me è la copertura del fatto dei danni che il vaccino fa direttamente questa è la verità e mi fa piacere che l'amico Fabio Franchi su questo sia d'accordo con me sì sì quindi ci sono dei danni diretti e poi quelli che ci sono dei danni diretti no ci sono dei danni diretti e basta e complessi poi l'ADE diventa il modo per coprire dice non è il vaccino che fa male di per sé i danni non sono dal vaccino è solo che il vaccino stimola lo sistema immunitario ed è il sistema immunitario che ti fa i danni è chiaro che il vaccino in qualche modo coinvolto però è molto meno responsabile non è il fatto che magari la responsabilità è la tua che c'è un sistema immunitario iperattivo del cavolo che reagisce male capito? che voleva aggiungere la dottoressa che ho visto che voleva condivideva insomma no condivido tutto ovviamente quello che dice Stefano possiamo sottolineare che se io dessi l'RNA da solo non in quella formulazione i sensori di membrana della cellula non li accettano perché capiscono che è qualcosa che non va bene e li fanno il trucco del cavallo di Troia si chiama così in nanotecnologie va bene di metterli dentro a queste sferule nanosferule di grasso perché vengono come diceva invaginate per endocitosi però la teoria loro dice che a un certo punto quando sono dentro si dovrebbero distruggere l'involucro ripidico si dovrebbe distruggere e rilasciare il contenuto di RNA però tutti questi testa in vitro di soluzioni di questi lipidi dove sono? io non li ho visti ma poi Antonietta in vitro è una cosa in vitro è completamente un'altra capito? ma anche con le celluline qualcosa dovrai dovrai aver fatto diciamo così invece tutti questi studi non ci sono quindi veramente è strano è strano veramente che la scienza come si è sempre comportata fino a fino adesso si è decaduto in questa maniera si 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 è per scontato tutto all'inizio io pensavo che i meno 70 perché vi ricordate che c'erano i meno 70 per i vaccini Pfizer adesso nessuno ne parla più dei meno 70 come mai? io pensavo che fosse per il fatto che appunto si cercasse di mantenere la sopravvivenza di queste sferule che non si degradassero e ai meno 70 secondo me diciamo era il metodo per mantenerli fino a quando non si iniettavano sperando che non si iniettavano adesso nessuno parla più di queste cose quindi è veramente una scienza che è andata a decadere la medicina normale quella che è sui libri quella è stata data alle fiamme insieme alla costituzione fabbio volevi aggiungere qualcosa? sì dato che ci erano accorti che non potevano distribuire i vaccini così hanno corretto le istruzioni proprio la ditta ha detto che per un certo numero di settimane ma la fisica la fa correggere così? le leggi della fisica la fa correggere così? sì sì hanno fatto loro sì un colpo di penna sia per le leggi alcune settimane a meno 30 può andar bene lo stesso ecco ecco io ho una domanda sì come no se posso fare un piccolo inciso il dottor Scoglio ha citato la SARS-CoV-1 ecco sapete perché è sparita la SARS la SARS è una malattia simile a questa data da un virus simile a questo una storia simile a questa con una mortalità più elevata del 30% però è sparita perché è sparita? per via della definizione se uno va a guardare la definizione se uno va a guardare la definizione loro hanno messo un limite cioè i casi erano quelli che erano determinati dal test che avevano una patologia respiratoria grave anche perché hanno attuato delle terapie molto tossiche io lavoravo gli infettivi quella volta ecco quindi ho un'idea ecco un caso è capitato anche da noi di una bambina di dieci anni impaurita al massimo e insomma poi dopo non lo era ecco ma quella volta là stavo lavorando gli infettivi che i casi fossero circoscritti, isolati e fossero controllati solo i contatti stretti non tutti quanti come fanno adesso fanno 340.000 tamponi al giorno che è una follia 340.000 se voi pensate mettiamo 10 euro a test sono 3.400.000 euro al giorno per questi test se uno pensa al mese sono 101 milioni ecco loro continuano più test fanno più positivi vengono e quindi non c'è mai una fine così a meno che non correggano nella maniera in cui abbiamo accennato prima ma per la SARS-CoV-1 la definizione impediva di fare questo lavoro adesso invece si può fare perché la definizione è aperta mi fa venire in mente sì no mi fa venire in mente scusa un breve inciso poi ti restito la parola che questa può essere la ragione per cui nel 2012 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha abolito il concetto di pandemia probabilmente perché col concetto di pandemia c'erano comunque una serie di vincoli anche in termini di diffusione nella popolazione percentuali eccetera per cui il SARS-CoV-1 a un certo punto non ci stava dentro allora cosa hanno fatto nel 2012? hanno eliminato il concetto di pandemia infatti quest'anno con tutti i parametri annessi quest'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha usato il concetto di pandemia ha detto che c'era un'epidemia di rilevanza internazionale queste sono le parole poi chiaro questa nei medi è diventata la pandemia comunque però la pandemia dal 2012 come concetto dell'OMS non esiste più sapevo e comunque mi pare di aver visto dei documenti dell'OMS in cui parlano di pandemia vabbè magari ne discuteremo sì ne discuteremo io mi ricordo che nel 2009 prima della suina nel marzo 2009 la suina è avvenuta è cominciata nell'ottobre mi pare luglio-ottobre di quell'anno hanno cambiato la definizione in modo tale che fosse omessa la parte in cui si diceva che doveva essere un virus nuovo con alta mortalità e diffuso in tutti i continenti quindi quell'alta mortalità l'avevano tirata via in modo da poter far sì che la definizione della pandemia fosse possibile applicarla all'influenza infatti loro studiavano per sviluppare queste pandemie influenzali c'è stata la suina la 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 soffittato di queste modifiche di quella del 2012 non sapevo comunque guarderò la problematica è che all'epoca si compravano milioni di dosi di vaccino che poi magari si buttavano quindi era la solita marchetta economica oggi invece si comprano e si vuole obbligare la popolazione a ricevere questo farmaco trasgenico quindi la mia domanda spontanea a tutti voi è secondo l'idea che sicuramente vi sarete fatti come potrà diventare l'essere umano del prossimo futuro che ha ricevuto questo trattamento genico quali possono essere le derive per chi magari riesce a sopravvivere non lo so vi siete fatti un'idea in questo senso in questo ambito dottoressa magari cominciamo guardi io vorrei lasciare la parola a Stefano perché perché io non sono una virologa conosco la biologia molecolare però io sono un fisico essenzialmente però diciamo che il mio disappunto è che quando si va a alterare cicli della natura del metabolismo cellulare va bene la natura prevale sempre cioè prende delle derive va bene di cui nessuno sa la portata ecco questa è l'unica cosa che mi permetto di dire perché è sempre stato così è sempre stato la natura trova sempre delle vie di sopravvivenza e speriamo che le trovi anche questa volta ecco dico solamente questo Stefano lasciate la parola ah sì io non so non ho previsioni molto ottimistiche perché già partiamo da una base molto bassa secondo me che è di natura anche politico-culturale perché noi comunque siamo un paese dove ormai viviamo di reddito di cittadinanza di dipendenza da dallo Stato per qualsiasi cosa e questo non favorisce diciamo indipendenza e coraggio e le virtù tipiche individuali quindi queste sono già venute meno in gran parte della popolazione quando poi continua a prendere farmaci vaccini costantemente perché non dimentichiamo che oltre ai vaccini qui noi stiamo parlando di una popolazione che al 50 60 70% assume come minimo un farmaco al giorno quando non due o tre e devo dire che questa è una cosa che non so perché nessuno l'ha tirata fuori che c'è una vastissima letteratura su come la maggior parte di questi farmaci guarda caso causano proprio le polmoniti tipo covid ok per esempio allora è chiaro che quando tu c'hai una persona che già ha diciamo poca poca predisposizione a essere autonomo indipendente e oltretutto c'ha da pensare al fatto che sta male cioè dove andiamo a finire andiamo a finire in una situazione in cui è molto facile instaurare una dittatura purtroppo perché l'Italia è all'avanguardia di tutte queste cose è diventata all'avanguardia per i vaccini ai bambini adesso è stata dopo dopo lo scherzo della Cina perché in Cina ragazzi hanno scherzato cioè in Cina hanno chiuso il Vubei per un mese come se noi avessimo chiuso il Molise per un mese fine basta finito tutto ok ecco quindi però invece in Italia è saltata da Wuhan a Bergamo a Bergamo e Brescia e l'Italia è diventata il leader mondiale della pandemia ma perché perché sanno che in un paese come l'Italia possono contare su una popolazione che purtroppo io ieri ero a Firenze domenica una persona senza la mascherina non l'ho vista ero l'unico che girava senza la mascherina i poliziotti non mi potevano dire niente non mi hanno detto niente perché comunque per legge tu puoi camminare per le strade liberamente all'aperto basta che mantieni la distanza e io quelli con la mascherina ci sto ben distante per principio per principio però voglio dire la popolazione italiana è così purtroppo la stragrande maggioranza io abito in Inghilterra in Inghilterra devi cercarlo uno che mette la mascherina cioè nonostante il lockdown nonostante il bombardamento mediatico anche se devo dire che comunque almeno anche nei giornali inglesi ogni tanto qualche teoria alternativa qualche critica a Boris Johnson qualche critica al lockdown usciva c'è stato l'ex presidente l'ex membro della Corte Suprema Sirton Lord Sirton mi pare che si chiami della Corte Suprema che qualche mese fa sul telegraph ha dato chiaramente del fascista a Boris Johnson per il lockdown perché andava a completamente distruggere la tradizione liberale inglese ora in Italia avete mai sentito qualcuno che potesse fare sul giornale una critica di questo tipo no purtroppo perché in Italia è tutto completamente sotto controllo la popolazione tranne noi non agisce nessuno e io penso che se poi come succederà continueranno addirittura a dire che dovranno fare la vaccinazione ogni sei mesi perché adesso stanno dicendo questo stanno dicendo che il vaccino anti-covid andrà fatto ogni sei mesi cioè questo trend non potrà che peggiorare a livello sia sociale che la maggior parte degli individui è certo Fabio tu volevi aggiungere qualcosa in conclusione sì dunque che i vaccini hanno potuto autorizzarli non approvarli sono autorizzati per la commercializzazione in base all'EUA l'autorizzazione per l'uso di emergenza perché partendo dal presupposto che si trattava di una malattia con alta letalità e anche loro adesso dicono vedono dalle statistiche la letalità non è alta e è per una malattia in cui cure non ci sono e in cui l'unica possibilità di salvezza è il vaccino sulla base di questi presupposti i presupposti sono sbagliati tutti abbiamo visto ne ha parlato Mariano Amici ma non solo lui ci sono altri gruppi di medici Zumsky come si chiama Zumsky sì sì Zumsky Cavanna sì appunto questi gruppi di medici che hanno dimostrato che con un approccio diverso cioè facendo i medici come le facevano prima in pratica il problema era risolvibile come gli anni scorsi non c'era niente di più rispetto agli anni scorsi quindi tutti i presupposti per fare il vaccino per rendere obbligatorio non ci sono tra l'altro non ci sono neanche neanche cercarlo con l'omicino nel senso che che senso ha fare un vaccino che dicono loro dà solo una protezione per la malattia grave ha solo una funzione di protezione personale non una funzione sociale quindi non ha senso fare la vaccinazione di massa perché la cosiddetta immunità di gregge che loro vogliono raggiungere prima era il 60% poi l'80% adesso è il 115% la protezione di gregge non serve perché comunque dicono loro il virus si diffonde anche di più tra i vaccinati quindi non ha proprio senso da nessun punto di vista e poi gli eventi avversi gli eventi avversi sono colpiscono praticamente il 90% di quelli che fanno il vaccino gli eventi avversi gravi sono in proporzione mettiamo 3-4% circa quindi gli eventi avversi sono tantissimi l'AIFA parla di l'AIFA e l'EMA offrono delle cifre che sono molto sottostimate quanto sono sottostimate? circa 100 volte sono sottostimate potrei entrare nel dettaglio ma non ha tanto importato comunque sono molto sottostimate come si dimostra questo? che secondo le autorità le reazioni avverse gravi sono infinitesimali una quantità infinitesimale e invece se andiamo a vedere intanto la polizia la finanza eccetera ha sospeso i vaccini per loro perché se loro non potevano neanche formare pattuglie i vigili di Roma tutti quelli sono vaccinati un terzo sono rimasti a casa quindi e poi c'è stata una ho pubblicato anche una lettera molto interessante di una dottoressa inglese specialista certa Pogliacova Katia Pogliacova ha scritto una lettera sul British Medical Journal che l'ha pubblicata però dopo dieci giorni l'ha tirata via e dipinge una situazione drammatica questa lettera io l'ho messa in linea in inglese in italiano perché adesso non si trova più non l'hanno censurata dicendo no non siamo d'accordo con quello che dice lei no oppure perché dice delle stupidaggini no l'hanno censurata perché avrebbe potuto essere usata da quelli che sono contro i vaccini insomma una censura ingiustificata in un giornale e una rivista scientifica naturalmente beh lei descrive e non è stata contestata quello che succede in ospedale cioè che interi e equipe mediche dopo che hanno fatto il vaccino se lo fanno insieme devono chiudere 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 il reparto perché nessuno è in grado di nessuno insomma non sono in grado di mantenere il servizio quindi eventi gravi che capitano anche a persone sane persone sane che non hanno nessun rischio per il vaccino insomma è un'assurdità totale un'assurdità che rincorre un'altra in un continuo non abbiamo caro Fabio non abbiamo toccato l'argomento dell'infertilità perché magari ecco non ne abbiamo avuto il tempo ma credo magari in una prossima volta o qualche aggiornamento se riusciremo a farlo ma non ci deve preoccupare soltanto quella fisica io penso che la gente come ti scriveva come diceva anche Stefano la dottoressa è stata sterilizzata mentalmente purtroppo specialmente in Italia e quindi magari questi nostri piccoli spunti girando per la rete magari possono dare dei piccoli approcci visto che comunque sono dati da persone più che autorevoli e professionali come voi e io per questo veramente non so come ringraziarvi ci avete fatto un grande regalo a partecipare al nostro live spero di di avervi presto però come ospiti e vi ringrazio da parte di tutti i nostri follower quindi poi magari ci aggiorneremo prossimamente quindi un saluto grande da Database Italia e grazie e alla prossima grazie ancora grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti